Vai, due, due, tre... Torna l'antica tradizione delle luminarie, corso di Avellino illuminato a festa in occasione del Ferragosto. Ad accendere le luci, il sindaco in persona, a sottolineare l'impegno dell'amministrazione per ridare il lustro al centro del capoluogo, oltre a Corso Vittorio Emanuele. Infatti le luminarie sono state collocate anche lungo Via Nappi. Il Ferragosto entra così nel vivo, previsti eventi in ogni angolo della città. Già da giorni il capoluogo è animato da iniziative culturali e concerti. Soddisfatto il sindaco festa. Offrire agli avellinesi un Ferragosto che coinvolgesse tutti i cittadini era uno dei suoi obiettivi manifestati all'indomani dell'insediamento. Ritorna un'antica tradizione che la gente ci ha chiesto da anni e sta tornando l'avellino che amiamo, quella che abbiamo sempre voluto, residerato in questi ultimi anni, quella a cui siamo legati. Credo che questo Ferragosto stia facendo tornare quella passione, quell'affetto nei confronti della nostra città e anche quell'orgoglio di essere avellinesi. Questo ritorno alle tradizioni, riappropriarci di una storia che ci ha visto protagonisti negli ultimi anni. Credo che la gente sia davvero contenta e questo mi inorgoglisce ancora di più. Grazie. 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 Grazie.